salve ragazzi e ragazzi benvenuti nel mio nuovo video allora vi dico una cosa vedete queste cose qua infatti vedete queste cose perché stamattina mi è successo una cosa molto molto brutta mi si vabbè comunque voglio provarlo a fare tipo come si facevano proprio all'inizio no tipo con le con le dip col gel poi devo tagliarla e quindi voglio provarlo a fare così vediamo se ci riesco non lo so ci provo ok allora prima metto questo vediamo che cosa combino ehi questo puzza in una maniera incredibile ok poi prendo la colla io mi ricordo cioè mi ricordo vagamente l'avevo queste cose qua tutto me ci provo provo a farne vediamo che succede ok adesso la dobbiamo un po tagliare perché è un po lunghetta devo farla più o meno simile nella testa un buco nero spendo soldi per sentirmi più leggero nuovo show spettacolare su un'isola di plastica in mezzo al mare faccio mille foto mai vestito uguale in quundici secondi ci si può annoiare non mi ricordo più che cosa devo fare ci sto prendendo gusto per dimenticare senza problemi senza pensieri l'insalatina per restare leggeri senza problemi senza problemi senza pensieri la posto oggi ma è una foto di ieri travolti fa lo stress delirio universale basta solo non pensare il mondo finirà non ti deve preoccupare pronti con la prova costume per il riscaldamento globale finito mamma ci ho messo pochissimo tempo ah finalmente sono ritornata ok purtroppo quello lì non l'ho potuto fare perché pochissimo e non ci riuscivo e quindi ho provato a fare questo però non mi posso lamentare perché mi piace molto simile ok se questo video vi è piaciuto lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi sul mio canale vi mando un bacio grande grande ci vediamo al prossimo sempre qui sempre su questo canale i love you